Salve gente, sono Larus, e coni qui su Rom2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo conquistato l'ultima provincia romana che era in Africa, la provincia di Lepcis. Non è stata una conquista particolarmente difficile e oltretutto abbiamo anche la nostra prima provincia in Africa. Da questa provincia qui conquisteremo, se riusciremo ovviamente, tutta la Mauretania e tutta l'Africa, cioè tutta questa zona qui. Vediamo un po' come riusciamo a fare. Il mio piano di conquista attualmente è andare verso i Masieli, prendere innanzitutto Tapsus, Dimmidi e Iol. Dopo aver conquistato queste tre province, tra cui una a legno oltretutto, possiamo anche andare verso Cartagine. E direttamente anche verso l'Ilibaeum. Conquistate queste due province, direi poi dopo di andare, dalla Cirenaica a Macaumades. Così abbiamo completato la conquista dell'Africa. Molto probabilmente andrò alla conquista della Fasania e della Magna Grecia. Però dalla Cisalpina ci pensero un po' più avanti, a quanto pare sono molto potenti i Veneti. Quindi vediamo un po' che cosa fare. Prima voglio diventare molto potente, poi dopo andare verso l'oro. Perché adesso credo di avere abbastanza la forza. Prima voglio prendere una città grande come Cartagine, una provincia ricca come l'Africa. Prima di andare direttamente da loro. In Grecia abbiamo problemi di ribellione. Ci sono un po' di ribelli in giro. E non è un gran che. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Qui possiamo intanto migliorare un paio di edifici. Anzi no. Direi proprio di no. Perché mi servono per costruire un nuovo esercito. Che voglio fare in Macedonia un nuovo esercito. Vediamo un po'. Abbiamo. Beh. Tu hai 4-4-4, quindi sì. Cromis. Nuovo esercito. Il generale ovviamente. Un lancerippeus. E vediamo un po'. Questo esercito qui lo voglio rendere molto rapido. E voglio fare una tattica che non ho mai fatto prima. Che vedrete un po' in futuro. Che cosa sarà. Per renderlo rapido ovviamente. Devo prendere unità leggere e non pesanti come gli opliti. Quindi prenderò opliti con Teuros. Ovviamente quelli più potenti che credo che siano. Questi qui. Benissimo. Posso solo reclutare questi per il momento. Invece. In questo esercito qui. Vorrei creare un po' di peltasti. Ora. Con l'altro esercito. Questo qui. Della furia di Atena. Oltretutto un po' troppe. Un po' troppe picche. Dovrei fare un paio di opliti. Ma anzi no. Non adesso. Con questo esercito qui. Mi voglio mettere. Al sud Italia. Per controllare un eventuale sbarco. Della quarta legione. Sì. La quarta legione. Erculia. O Erculia. Che potrebbe sbarcare. A Cosenzia o a Brindisi. Non voglio avere eventuali casini. Quindi voglio eliminare subito. Se sbarca l'esercito. Ovviamente con la flotta navale. Riuscirò a fare tutto quello che. Voglio. Quindi non è che ci sono troppi problemi. Nemmeno lì. Qui. Ripariamo. E rendiamo. Ah no no no. Faccio così. Rendiamo. Tutta la nostra cultura. Oh non c'ho soldi. Vabbè. Aspettiamo un attimo va. Intanto mettiamoci a porto. Io direi di distruggere. No non posso muovermi. Azze. Volevo distruggere questo esercito. Una volta per tutte ma. Vabbè. Oh ci sono un po' di personaggi. Che hanno bisogno di nuove abilità. Le teste del Lidra. Il generale. Che oltretutto. Credo che sia il mio. Il mio. Leader della fazione. Direi. Blockade Runners. Oltretutto. Mettiamo anche. Al generale. Logistica. Credo. Possiamo dare di logistica. Invece. Al generale. Della paura di Deimos. Possiamo dargli. Comandante di livello 2. Che può andare più che bene. Per lui. Siamo nel. 195. Avanti Cristo. 195. Avanti Cristo. Che cosa succedeva? Non mi ricordo più. Non mi ricordo. Assolutamente nulla. Il ponto sta diventando abbastanza potente. Ho visto che controllava. Un mezzo del Mar Nero. È un bene. Per me. Perché mi ho alleato. Più che altro. Quindi avere un buon alleato a este. Può essere una buona cosa. Magari in futuro. Dopo che avrò conquistato la maggior parte delle terre a ovest. Posso andare anche a est. Se voglio conquistare il mio stesso alleato. Anche se credo che non è che. È una buona cosa. Io voglio conquistare più che altro. Attualmente. L'Africa. L'Africa mi interessa particolarmente. Perché oltretutto. E anche nei miei obiettivi di guerra. Nei miei obiettivi di vittoria. Per vincere. Devo controllare la Magna Grecia. L'Africa. L'Egitto. Credo anche. Poi dopo qualche altra provincia in Africa. Quindi se controllo quelle province. Posso fare una vittoria militare. In teoria. Quindi. Dovrei partire per quelle province. Ovviamente. Dovrò conquistare anche la Cisalpina. Prima o poi. Dovrei far fuori i Liguri. O i Veneti. Non mi ricordo più chi sono. Veneti. Eccoli qui adesso. Che sembra una potente. Civiltà barbarica. Intanto ci sono i Siracusani. Che vanno in mezzo al deserto. Una popolazione infelice. In Hellas. Si sono tutti incoraggiati dappertutto. E poi dopo. In Africa. Sono anche abbastanza tristi. Tristi. Devo attaccare. Finalmente. E annientiamo il nemico. E ok. Abbiamo ovviamente vinto. Non c'erano. Non c'erano. Troppe possibilità. Per il nemico. E qua abbiamo un altro. Un altro esercito nemico. La legione undicesima. Abbiamo fatto oltretutto un imboscato. Direi che possiamo anche lasciare stare questa battaglia. Ah. Nei coglioni. Ah. Ai 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 ai. No. Giusto giù nelle dune. Nella sabbia. Prendiamo. I prigionieri. Oltretutto possiamo anche. Spostarci con il nostro generale. A Tapsus. Che ovviamente voglio prenderla il prima possibile. Sì. Io direi di prendere caserme per gli opliti. E qui. Prendere un tempio. Di Atena. Che è sempre un buon tempio. Secondo me. Così aumentiamo la nostra cultura. E oltretutto aumentiamo anche. Il ratio delle tecnologie. Con questo esercito qui. Ah. Non so che fare. Perché. Qui sono abbastanza. Incazzati. Nell'Ellas. Quindi direi di aspettare un attimo. E tenere l'esercito qui. Anche a pella. Ma perché sono tutti così incazzati? Forse le tasse. Sono le tasse. Sono abbastanza basse le tasse. Così. Eh. Perché sono. Hanno ordine pubblico basso. Squallore degli edifici. Davvero? Ma potrebbero ribellarsi gli schiavi. Tra i dieci turni. In teoria. Schiavi. Dannazione. Quindi... Un bel problema. Un bel problema. Partiamo con la furia di Atene. Intanto ci siamo. Quegli altri due eserciti che ho creato. Li lascio lì dove sono. Non voglio spostarli fuori dall'Ellas. Perché ho paura. Veramente. Che ci siano problemi con gli schiavi. Anche se sarebbe emozionante vedere una ribellione degli schiavi. Io... In emozione per... Con poco ragazzi. Con poco. Gli schiavi bastano. Ok. Qua c'è un... Un tizio. Che sta... Setacciando il terreno. Il ponto. Che cosa vuole fare il ponto? Oltre a picchiare le... Tribù... Delle steppe. I seleucidi. Ecco. I seleucidi non ne parlo da un bel po'. Stanno lì. Non fanno nulla. Almeno non so se fanno qualcosa. Ovviamente... Non dovrebbero fare un granché. Anche... Ci sono i marocchini a Cagliari che... Hanno un bel po' di truppe. Dobbiamo fare attenzione anche a loro in futuro. D'oltre tutto le tribù... Africane non dovrebbero essere troppo. Potenti. In teoria. Hanno... Delle unità che... Alla fine... Non è che raggiungono proprio l'eccellenza. Hanno i cammelli che... Se non erro... Sono delle unità... Ah, so avversario militare... Vabbè. Sono delle unità... Che servono più che altro... Contro... La cavalleria? Non mi ricordo. Comunque... Adesso direi... Via. Vi dichiaro guerra. Ma sono anche entrati i Gaetuli... Dalla loro parte. Interessante. Prendiamo Tapsus... Adesso che possiamo. Io direi di prendere Tapsus adesso che possiamo. Perché non voglio aspettare troppo tempo... Aspettiamo un attimo. Solo aspetta. No, non vorrei aspettare troppo tempo. No, aspettiamo un attimo. Voi dovete muovervi però, eh. Tendiamo anche un blocco navale. Con gli araldi del tritone. Ok. Possiamo partire con la battaglia. Hanno un po' di navi. Noi ne abbiamo anche un po' però non ho... Dovrei avere problemi. Direi di partire con un assalto. Ho paura di quell'esercito che si sta avvicinando dietro di me. Quindi voglio prendere la città il primo possibile. Che così dopo riesco a difendermi con una città. E oltretutto tolgo uno sbocco sul mare. No, ne hanno anche loro uno sbocco sul mare. Dall'altra parte. Quindi nulla. Li tolgo nulla però comunque li tolgo una città. Ah beh Cesare. Quelli che stanno per morire ti salutano. Ho detto ai gladiatori prima di combattere. Credo che in latino sia ave caesar. Caesar? Cioè cesar. Poi dopo dipende dalla pronuncia che volete fare. Pronuncia classica oppure medievale. Moriturus te salutant. Credo. Io faccio latino non lo so. Non è che... Sono bravissimo in latino ecco. No questa non me la cavo dai. Si me la cavo. I guardiani delle onde. Abbiamo contro. Un esercito nemico. Non so che cos'è quell'unità del generale. Navale. Mi fa paura. Quasi. E mi incombe. Però gli opliti fanno ancora più paura secondo me. Secondo me gli opliti su rom 2 hanno uno scudo un po' troppo piccolo. Dovrebbero renderlo più grande. Almeno non so veramente in quest'epoca classica post ellenica. No siamo in epoca ellenica qui. Cioè dopo Alessandro Magno come erano gli scudi. Però mi pare che fossero abbastanza grandi sti scudi. C'era... C'erano le madri spartane che dicevano... Tornerei a casa sopra lo scudo. O con lo scudo per dire. O... Tornerei a casa sullo scudo si intendeva... Mettere il cadavere sullo scudo. Quando uno moriva in battaglia... Lo si portava sullo scudo piuttosto che trascenarlo per terra. Oppure con lo scudo. Ovvero vivo, combattuto, fatto, finito. Tutto quanto. Però per mettere una persona su uno scudo... Io penso... Ce ne vuole un... Un po' eh. Non... Uno scudo non piccolo. Uno scudo un po' più... Grandicello. Mi sto perdendo in chiacchiere. Devo smetterla. Ora mettiamo tutte le nostre unità a posto. Mettiamo... Prima linea... Giavellottisti. Seconda linea... Arcieri. Anzi non faccio che fare una cosa. Ciavellottisti. Dietro... Opliti. E arcieri dietro. Beh che faccio questo? Perché poi dopo voglio spostare gli arcieri... Dai lati. Così riesco a sparare praticamente dietro. Noi rinforzamenti hanno arrivato. Ok. Io. Non so che fare. Una battaglia navale non la voglio ingaggiare. Voglio aspettare che loro sbarchino. E poi dopo si fa tutto il resto. Loro sbarcano. Tutti carini, bellocci. E via. Ok. Io non voglio ancora sparare con le baliste perché sennò si sprecono colpi. Ah no. Loro vogliono la battaglia navale. E questo non mi piace un granché. Allora dobbiamo combattere via mare anche. E a me questo non fa per niente impazzire. Mettiamoci così. Poi dopo le... Dire incendiarie. Possiamo mettere su questo lato. E un ciavellottista su questo. Dopo mettiamo il generale anche su questo. Ok. Prendiamo. Ins. Visuale. Da combattimento. E spariamo un colpo. Oh c'era come quasi. Qua sta scoppiando una luce in camera mia. Ok. Mi sto mancando. Oh devo smetterla. Disparare colpi a muzzo. Ok. Questo colpo qui ha fatto un po' male. Ok. Ora partiamo. Fermiamoci un attimo. Partiamo nel... Arrembaggio. Non so che cosa fare. No qua è abbastanza danneggiato lo scafo. Quindi partiamo. E sparichiamo un po' qui. Qua sparate voi. Ok. 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 Qua è esploso tutto. Qua possiamo anche partire corpo a corpo. Ok bene. Qui ce l'abbiamo fatta. Quindi partiamo di nuovo il corpo a corpo. Qua abbiamo distrutto... Distruggibile. Ok ce la stiamo cavicchiando. Ah no. Tu devi andare... Speronare questa. Già che non mi ricordo più gli ordini che vi assegno. Ok. Qua ti ho distrutto. Quindi. Stiamo così. Oh già qua mi dimenticavo di te. Mi sto dimenticando di questa navicella piccola. Ok. Partiamo a speronare tutte queste navi. Ok. Ok. Ok qua abbiamo abbordato. Con le altre navi possiamo smettere di fare speronamenti... Cioè di bombardare e fare cose. Ok. Qua abbiamo... Fatto un po' di speronamenti. Che ora partiamo qui. E possiamo anche... Divertirci abbastanza. Mettiamoci così. Così riusciamo a sparare. Come vogliamo. Adesso passiamo alla battaglia di terra. Che è un po' più interessante. Mi piace un po' di più. Però una volta comunque non ho perso una nave. Sto diventando bravo. Gente. È abbastanza particolare. Però dovete fare una formazione voi. Ah sì così si fa la formazione. Avanzate. Uomini. Di Atene. Guardate che belli. Bel tasto in prima linea. Opliti in seconda. E infine arcieri. Poi il generale. Che è un... Della cavalleria dei lanciari Peus. Atene con tutta la sua furia. Ora qui possiamo sparare e divertirci. Qui. Con tutto questo ammasso di uomini. Mi piace quando si ammassano gli uomini. Oh no. Così no no. È bruttissimo. Mi piace quando i nemici stanno tutti ammassati. Così è un po' meglio. Direi quando gli uomini si ammassano. No. Ora direi. Spariamo e divertiamoci. Lanciamo colpi esplosivi. Così ne muoiono di più. Guardate qui. Che belli scudi che hanno. Sembrano degli Zulu. Però stanno tutti qui compatti assieme. Non è che sono troppo furbi. Esti nemici. Velocizziamo anche un po', eh. Possiamo. Però i colpi devono arrivare. Ok. Wow. Guardate che. Che esplosioni. Stanno. Stanno morendo in tanti, eh qui. Hanno speranze. Wow. Ne arrivano troppi i colpi. Guardate, continua ad esplodere. Che bella l'artiglieria su Rom 2. Più precisa di quella di Empire. Io mi sono sempre chiesto il perché. Su Empire per beccare. Già solo un paio di uomini. Dovevi sperare. E oltretutto. Facciano anche poco danno alle mura. Invece qui fanno. Ne fanno di danno. Si stanno arrendendo. Pian piano. Invece le nostre navi. Possono sparare anche loro. Ok. Sparate anche voi. Ok. Arrivano anche i colpi via mare. Però non è che fanno un gran che colpi via mare. Possiamo beccare i lancieri. Che sono un po' più esposti. Qua. È un macello. Guardate. La furia di Atene. Che si scaglia contro i nemici di Atene. Beh questo colpo qui è andato un po' a caso. Ora. Esercito navale. Sparate qui. Ora posso anche partire con una bella carica. Velocizziamo un po'. Eh. Questo colpo qui li ha beccati. Ok. Hanno finito praticamente tutte le munizioni. Potete anche fermarvi voi. Ok. Ora. Prepariamoci per l'attacco definitivo. Però. Non dovrebbe essere nemmeno troppo difficile. Non dovrebbe essere nemmeno troppo difficile. Vediamo. La furia dei greci. Guardate. Che figo. Non hanno speranze. Non hanno proprio speranze. Una carica di opliti. Guardate che belli. Si arrendono subito. Una battaglia che mi è andata un po' troppo bene. Più che altro anche via mare. Ho perso solo 18 uomini. Col mio generale che è Basileio. Basileios. E poi il generale nemico è. Oddio. Mi volete male. Amantinkarenkerem. 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 Amanikarenkerem. Anche che. Si. Credo che avete capito. Bene. È stata una battaglia ovviamente. Un'attività decisiva. Eravamo contro degli africani. Però. Comunque erano. Un bel po'. Soprattutto via mare. Avevo un po' paura. Perché pensavo di perdere tutto l'esercito. Navale. Invece no. No. Non ha perso nemmeno una nave. Andata bene. Hmm. Se ne calgione. Ah. Lui. Che cazzo. Non ho capito la frase. E chi. E lui. Che desideri di più. Non mi ricordo. Adesso non c'è più scritto. Durata battaglia. 8 minuti. Molto bene. La causa. La paura. E l'ignoranza. Sempre se ne calgione. La causa. La paura. E l'ignoranza. Sì. In teoria. Sì. Però si può aver paura. Anche di qualcosa. Che si conosce. Alla fine. Ovviamente una paura. Perché non sa. Che cosa gli capitare dopo. Però. Spesso la paura. E anche. Semplice. E pura. Paura. Anche per qualcosa. Che non conosci. Cioè. Per qualcosa. Che conosci. Però che non sai. Come andrà a finire. Ecco. Tanto direi. Di occupare. La paura. Di Deimos. È arrivato al grado. 5. Direi. Che possiamo aumentare. Le tradizioni. Direi. Forza. Inarrestabile. 2. E il generale. Diamo. Il generale. Livello. 2. Ok. Ok. Qua facciamo un porto. Navale. E qui. Una caserma. Di peltasti. Ok. Sta per arrivare. Una nuova flotta. E spostiamo. Invece. La nostra. Di flotta. Dall'altro porto. Che così. Riusciamo a bloccare. Anche. Tutti. I. Questi tizi. Qui. Più che altro. A Cagliari. Ok. Devo ricercare. Tecnologie. E direi. Posso mettere. Ah. Direi di andare su. Tecnologie civili. Sì. Andiamo su. Public action. Molto bene. E ok gente. Credo che per questa puntata. Sia tutto. Votate e commentate. Ci sentiamo la prossima. Dovremmo. Affrontare. I guerrieri della fortuna. Speriamo. Che non siano. Poi così tanto fortunati. Alla prossima gente. Dall'ora è tutto. Ciao.